Torrese a caccia di riscatto dopo una sconfitta seppur onorevole contro l'Avezzano. Inoltre i ragazzi di Cristofa ricercano un successo interno che manca dallo scorso 24 ottobre. Ci provano contro una curia angolana e riducendo due vittorie consecutive che le hanno permesso di allontanare le ultime della classe. Partono meglio gli ospiti che dopo un minuto e 15 secondi ci provano subito con Cichella dalla distanza ma Abate è attento. I ragazzi di Rachini insistono e al settimo vanno ad un passo dal vantaggio con una gran botta di Farias che finisce alta di poco. Continua l'angolana che al diciannovesimo trova il gol del vantaggio. Sulla sinistra Farias riesce a superare Mbop e crossa a centro area dove Casati è lesto nella deviazione vincente sulla quale Abate nulla può. La reazione dei padroni di casa è immediata ma non produce nulla di particolarmente significativo fino al 26esimo quando Santi Rocco riceve palla in area di rigore e fa partire una conclusione di incrociare che beffa irrimediabilmente Pugli. Due minuti più tardi è ancora il numero 9 di casa a trovare il gol ma Nazzicone questa volta nulla per una presunta irregolarità. Al 32esimo calcio di punizione dello specialista Mastrilli e Sfera che finisce di poco a lato. Con le immagini di Flavio Forcellese passiamo alla cronaca della ripresa. In avvio di secondo tempo ancora insidiosa Santi Rocco che non trova la porta a differenza di quanto accade solo due minuti più tardi quando su un cross proveniente dal settore destro è ancora l'ex punta dell'Alba Adriatica a battere Puddu siglando la rete del 2 a 1. Da applausi al 19esimo un contropiede della Torrese orchestrato da Mastrilli che serve Santi Rocco che con un colpo di tacco a seguire imbecca sulla fascia sinistra Gentile che si invola verso l'area di rigore si accentra e conclude ma un difensore avversario sporca la conclusione che invece vanno ad un passo dal pari al 24esimo. Cross dalla destra di Ruggeri e Casati va vicinissimo al gol della vita sfiorando il palo con una favolosa girata volante. Così al 36esimo arriva il Tris con Santi Rocco che completa la sua giornata super battendo ancora Puddu. C'è tempo per la rete del 4 a 1. Confesta che al 90esimo prima si procura un calcio di rigore e poi lo trasforma spiazzando l'estremo difensore avversario. Dopo 5 minuti di recupero il match termina con la Torrese che ritrova un successo interno che mancava da un mese e mezzo. Rachini un ottimo avvio di gara in cui avete trovato un vantaggio meritato dopo di che avete commesso alcuni errori che vi hanno portato a subire un passivo probabilmente eccessivo. Sì sono d'accordo la partita per me era ottimamente giocata la mia squadra nei primi 30 minuti abbiamo preso gol nell'unica occasione che abbiamo concesso però dobbiamo analizzare secondo me errori individuali che puntualmente da inizio campionato ci costano a caro prezzo e quindi quello dobbiamo valutare. Questa è una squadra che non può stare che non può mollare a livello mentale neanche un minuto perché dopo si compromettono le partite quindi da allenatore sono dispiaciuto di quello perché poi in campo la mia squadra ci sa stare e ha messo in difficoltà una signora squadra come la Torrese che comunque sta facendo un ottimo campionato però ripeto avere un passivo così pesante mi dispiace l'allenatore ma mi dispiace per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Mister Cristofari per 20 minuti non è stata la solita Torrese dopodiché via via vi siete sciolti avete ottenuto una vittoria piuttosto larga. Sì direi anche più di 20 minuti insomma soprattutto il primo tempo la mia squadra non è scesa in campo secondo me insomma non ero per niente soddisfatto della prestazione dei ragazzi non so il motivo probabilmente la sconfitta da Vezzano aveva lasciato qualche strascico e questo non deve esistere perché insomma ripeto noi stiamo facendo un ottimo campionato dovevamo fare la partita che siamo abituati a fare invece l'angolana ci ha sul classato un primo tempo dove hanno trovato il vantaggio noi non siamo riusciti mai ad entrare in partita poi abbiamo dovuto fare due cambi forzati per due infortuni abbiamo cercato di cambiare qualcosa dentro lo spogliatoio abbiamo cambiato anche qualcosa a livello tattico nel secondo tempo abbiamo provato insomma a giocare come sappiamo fare non sono comunque soddisfatto perché siamo capaci di fare molto di più però insomma alla fine oggi che non meritavamo magari il risultato pieno l'abbiamo fatto in altre occasioni meritavamo sicuramente qualcosa di più il calcio è questo quindi faccio i complimenti all'angolana perché sicuramente ha fatto una prestazione dove non meritava questo risultato.